Che dire, da una domanda semplicissima abbiamo avuto una dissertazione su uomo, donna, società, costume, economia, quindi non può essere che il nostro amico... Enrico Trubbiano Enrico Trubbiano, il leader della prima puntata di Opinion Leaders, quindi avviene ufficialmente la premiazione con la maglietta di T-shirt Express Prego, indossa questa maglietta se puoi, sì sì, in diretta, ti vediamo indossarla, sì sì, sopra quella che... Sì sì, non ti chiediamo di fare striptease perché è contrario al nostro costume, ecco che il nostro vincitore della puntata, il leader, indossa la maglietta di Opinion Leaders, ecco qui, grazie Grazie a voi Ci salutiamo con il nostro motto che ti chiediamo di riprendere, Opinion Leaders perché siamo tutti opinionisti Allora, Opinion Leaders perché siamo tutti opinionisti, grazie